Allora, gentili consigliere e consiglieri, egregio sindaco, ho chiesto la parola e questo sarà il mio unico intervento in questo Consiglio Comunale e quindi sarà molto lungo e vi prego quindi mi prendo tutto il tempo necessario, perché ritengo doveroso informarvi della mia decisione di dimettermi da consigliera, decisione maturata in questo ultimo periodo dopo il recente esito elettorale. La lettera di dimissione sarà inoltrata domani, come concordato con il Segretario Generale, in modo da poter prevedere la mia sostituzione già per la prossima seduta di Consiglio con la delibera di surroga. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che mi hanno eletto dandomi la preferenza, ma devo altresì riscontrare che 322 preferenze rappresentino un'espressione chiara dell'elettorato in controtendenza rispetto alle 3 precedenti elezioni comunali a cui ho partecipato, 2 nel 2005 e l'ultima nel 2010. Ho valutato questo dato come un'esplicita richiesta di cambiamento e di rinnovamento da parte dell'elettorato che ritengo rispettare. Grazie.